Arriva a Chieti il primo taxi con defibrillatore a bordo, un dono dell'ordine delle professioni infermieristiche che rientra nel progetto più ampio, strade sicure che proprio dalla città teatina prende avvio. La consegna invia spezioli nei pressi del Teatre Center. Anche i laici debitamente formati possono intervenire e salvare vita. Ciò accade già in altre realtà, penso Torino, Roma, Emilia Romagna eccetera e sappiamo benissimo che sono patologie tempodipendenti, ovvero prima si interviene e più aumenta la probabilità di salvare vite umane. Per utilizzare il defibrillatore semi-automatico del TaxiDye è necessaria un'adeguata formazione causa sposata dai volontari del coordinamento infermieri del CIFES dell'emergenza sanitaria della provincia di Chieti. Una formazione di primo soccorso con l'aggiunta del modulo della defibrillazione in maniera che si possa utilizzare al meglio questi macchinari per l'intervento rapido e immediato in caso di infarto o crisi cardiache improvvise. È importante saperlo maneggiare accuratamente perché si può incorrere anche inti rischi nell'utilizzo non adeguato di questo strumento. Come ti è venuta questa idea? Allora questa idea mi è venuta sia per osservando dei taxi nelle città del nord che già hanno aderito da diversi anni a queste iniziative sia perché comunque le mie professioni antecedenti al tassista erano tutte professioni che comunque riguardavano la salvamento in mare, salvamento in piscina quindi comunque salvare delle persone in caso di necessità.